Ogni anno nel mondo si verificano circa 44 milioni di aborti. Una gravidanza ogni 5 termina in aborto. In Italia oltre 100.000 bambini vengono uccisi nel grembo materno. Nel XX secolo oltre un miliardo di persone sono state eliminate, cancellate, soppresse, più di 5 volte morti provocati dai conflitti armati, senza tener conto degli aborti chimici, silenziosi come la morte. Abortiti prima ancora, che potessero vedere la luce. Contro questo massacro in tutto il mondo si marcia per la vita. A Washington, Parigi, Madrid, in tutti i continenti, milioni di persone si sono mobilitate per affermare il valore irrinunciabile della vita. Anche a Roma il 4 maggio un intero popolo marcia per la vita. Perché sulla vita non si fanno compromessi. La vita è un principio non negoziabile. Non combatte in modo credibile la cultura dello scarto chi parla volentieri della fame del mondo ma non si oppone all'orrore dell'aborto. Per questo noi a Roma ci saremo. Quarta marcia nazionale per la vita. Per la vita senza compromessi. A Roma, 4 maggio 2014. Uniscite noi. Unisciti al popolo per la vita. 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 Unisciti al popolo per la vita.